Sono 105.000 gli alunni delle scuole della Regione Lazio affetti da asma e malattie allergiche. Un numero enorme che tende a crescere. È proprio per questo che devono essere sviluppate e attuate politiche che garantiscano la reale tutela dei pazienti asmatici e allergici attraverso una rete di prevenzione e assistenza sociosanitaria che coinvolga tutti gli ambiti della vita domestica e scolastica del paziente. Una realtà, quella delle malattie allergiche e dell'asma, che la Regione Lazio non vuole ignorare tanto che nel corso dell'incontro organizzato nella giornata nazionale del paziente allergico è stata presentata la proposta di legge regionale per l'istituzione di presidi sanitari scolastici e norme per la prevenzione e il controllo delle malattie allergiche e dell'asma bronchiale firmata dal consigliere regionale Riccardo Agostini. L'ennesima proposta di legge è quella di Riccardo Agostini che tende a tutelare delle fasce per troppo tempo tralasciate anche dalla sanità laziale, quella delle persone allergiche, si mira soprattutto a tutelare i bambini. I numeri sono numeri importanti, noi dobbiamo a mio avviso recuperare un po' delle antiche idee cioè quelle che la sanità, la salute delle persone parte proprio dal momento in cui nascono quindi dal periodo anche dell'infanzia. Ora l'idea è un'idea semplice, non è un'idea straordinaria, non ci sono tanti giri di parole bisogna recuperare l'idea dei presidi sanitari scolastici e cioè in un momento come questo dove la sanità nazionale dice che aumentano sempre di più le malattie legate appunto all'asma, legate alle vie respiratorie, legate all'inquinamento ma anche ai distri di vita complicati insomma l'idea è quella di recuperare appunto i presidi sanitari scolastici Allora i nostri bambini noi li sostanzialmente li iniziamo a seguire fin dalla prima infanzia da quando sono piccoli. Il luogo principale è il luogo della scuola addirittura io mi ricordo quando ero bambino c'erano gli infermieri a scuola e anzi molti vaccini venivano fatti a scuola, io mi sono fatto il vaccino sul vaiolo quindi il recupero della presenza, della sanità e quindi della cultura anche del curarsi perché anche un elemento culturale dentro la scuola diventa elemento fondamentale per seguire i nostri ragazzi fin dai primi passi questo aiuta innanzitutto a capire quali sono i motivi per i quali molte persone hanno questi problemi ma soprattutto se questo problema si manifesta avere accanto una persona che lo sa controllare lo sa gestire e quindi magari se in una situazione anche di gravità lo può salvare Agostini molto importante un aspetto forse trascurato la sanità della regione Lazio non può garantire gratuitamente ai bambini affetti da queste che sono vere e proprie malattie i vaccini, vaccini che hanno un costo di 500 euro, vaccini che non sono rintracciabili nel Lazio ma addirittura i genitori devono arrivare fino alla Lombardia per trovarli cosa state facendo in questo senso? Questo è un grande problema, è un grandissimo problema quello che voi mi ponete noi stiamo cercando innanzitutto di capire come essendo noi una regione in deficit sanitario siamo commissariati come cercare di rientrare dal deficit come lavorare al recupero della piena legittimità politica e amministrativa sul tema della sanità del Lazio quindi la gestione dei nostri pazienti quindi anche la gestione politica delle proposte che dobbiamo fare per recuperare la rete ospedaliera ecco le cose che tu mi dici sono le cose sul quale dobbiamo lavorare cioè far sì che questi vaccini siano presenti anche nella nostra regione ora ci interesseremo anche di questo lavoriamoci e cerchiamo appunto di risolvere nel migliore dei modi i problemi che sono presenti nella nostra regione Si parla di asma, si parla di allergie in che direzione va la proposta di legge del Consiglio regionale del Lazio? 2013 l'anno dell'aria e quindi riguarda non soltanto direttamente quelle che sono le patologie asma, allergie ma riguarda soprattutto quello che è la qualità della vita dei cittadini europei in questo caso i cittadini italiani ancora in maniera più specifica i cittadini del Lazio noi stiamo lavorando per migliorare quello che è la qualità della vita dei nostri cittadini quando si parla di aria si parla di rifiuti, si parla di ambiente, si parla di agricoltura come prevenzione e quindi valutare quelli che sono i rischi che oggi purtroppo esistono che quotidianamente creano questo tipo di patologie, allergie, asma ci sono dei dati che sono assolutamente allarmanti nel 2020 i bambini soprattutto da 0 a 14 anni ogni due bambini uno sarà allergico quindi sono dei dati sicuramente preoccupanti è un tema che la Regione Lazio deve affrontare sia come prevenzione sia come cura come continuità di cura ad esempio oggi all'interno di questo seminario parleremo di una proposta di legge per la somministrazione di medicinali durante l'orario scolastico sembra una cosa banale ma è una cosa di particolare attenzione io ho fatto il sindaco per tanti anni e anch'io ho trovato difficoltà a far somministrare ai bambini che andavano a scuola le loro medicine per tante patologie anche per patologie allergiche o asmatiche quindi anche questa proposta di legge che oggi discuteremo insieme al problema dell'ambiente, dei rifiuti, dell'area, della qualità della vita va nella direzione di garantire una continuità assistenziale in questo caso anche di medicinali che vengono dati ai bambini anche durante l'orario scolastico quindi l'impegno nostro è quello di lavorare perché alcuni aspetti possano migliorare si parla di smog, si parla di inquinamento si parla proprio di situazioni che incidono quotidianamente con la vita delle persone del Lazio e si parla anche di come tutelare le persone che già soffrono di queste patologie soprattutto oggi il tema è incentrato sulle scuole su come la Regione Lazio può fare delle leggi per dare risposte a queste persone chi deve fare cosa, ci sono dei corsi di formazione che vanno fatti non ci possiamo più affidare alla buona volontà o alla sensibilità dell'insegnante o dell'ASL territoriale che magari ha una sensibilità maggiore la Regione Lazio deve fare delle regole, delle leggi che debbano essere rispettate da tutti deve fare dei corsi di formazione deve garantire ai nostri figli che vanno nelle nostre scuole non soltanto la sicurezza della struttura che è fondamentale ma anche la salubrità chiaramente dei luoghi di lavoro che possono essere le scuole, che possono essere uffici ma anche la possibilità di vedere somministrate dei medicinali che servono a garantire la continuità terapeutica questo è il convegno di oggi quindi si parte da un tema generale che è quello della qualità della vita per entrare nello specifico di come aiutare i nostri figli all'interno delle scuole per situazioni patologiche che hanno e quindi come poterle aiutare Presidente c'è un aspetto molto importante che è quello che riguarda il monopolio in alcuni casi di alcune case farmaceutiche sui vaccini per i bambini soprattutto affetti da allergia ci sono casi di cittadini che chiamano quotidianamente la nostra trasmissione che denunciano che i bambini devono necessariamente essere sottoposti a un vaccino che è al costo di 500 euro si sta pensando anche a qualcosa in questo senso? Assolutamente sì, nel senso non è soltanto molte volte un problema di monopolio molte volte un problema di mancanza di medicinali che non si riescono a trovare all'interno della nostra regione sembra strano, molti medicinali, spesso sono medicinali salvavita vengono venduti all'estero perché ci si guadagna ancora di più quindi noi ci stiamo ponendo questo problema che ci è stato sottoposto da associazioni, di consumatori, da varie associazioni che hanno queste tematiche quindi si sta lavorando per capire insieme alle aziende farmaceutiche per poter dare una disponibilità di vaccini in questo caso ma di medicinali in genere anche a costi non dico contingentati ma che possano essere un po' per tutti quindi non soltanto costi che siano alla portata di tutti ma soprattutto la possibilità di reperirli perché molte volte c'è l'uno ma manca l'altro quindi ci stiamo ponendo questo tipo di tema io ho parlato proprio con Federfarma con il presidente Caprino di questo tema della mancanza di medicinali che si trovano all'interno della nostra regione anzi la non presenza di questi medicinali stiamo cercando di capire come poter intervenire all'interno di un mercato ormai che è non più regionale ma nazionale anzi internazionale europeo per capire come però garantire il diritto alla continuità assistenziale e quindi alla possibilità di continuare a prendere questi medicinali all'interno della nostra regione Cosa chiedete? Noi chiediamo intanto di non banalizzare più queste patologie perché sono patologie che specialmente nelle forme gravi portano a dei problemi molto seri quali ad esempio nel caso delle anafilassi che sono delle reazioni allergiche gravissime si può arrivare a morte nel giro di pochi minuti dall'insorgenza della reazione allergica per cui quello che chiediamo è che siano garantiti specialmente quando si è a scuola questi bambini che possono andare incontro a queste gravi reazioni un'assistenza qualificata che permetta di intervenire immediatamente nel momento dell'insorgenza dei sintomi per la somministrazione dei farmaci a scuola e questa proposta di legge che è stata presentata mira a soddisfare questa esigenza di una grossa parte di popolazione e soprattutto c'è una parte molto importante che per noi è come se fosse una terapia che è quella della protezione dei bambini durante l'orario scolastico dall'inquinamento indoor presente dentro le scuole per cui tra le varie cose che presenteremo questa mattina il consigliere Agostini ha presentato anche una mozione per il recepimento dell'accordo Stato-Regioni per l'abbattimento dell'inquinamento indoor nelle scuole e un'altra mozione per la distribuzione gratuita nella Regione Lazio dell'adrenalina pronta e speriamo vivamente che nel corso di quest'anno queste iniziative promosse nell'anno europeo del respiro vengano poi portate avanti in maniera concreta per dare delle risposte vere ai pazienti